Uno psicologo ha il compito di ascoltare, ma più ascolto la paziente, più entro in confusione. Un mucchio di regole, sicura di sé, inarrivabile, scontrosa ed orgogliosa, capace di guardarti negli occhi e incenerirti. Poi, però, ecco un'altra versione, fragile, indifesa, insicura, ma nell'istante, ad un batter di ciglia, diventa seducente e maliziosa, capace di attirare l'attenzione di me. Io stesso adesso sto male. La guardo e poi la ripeto.